Come dodicesimo come in campo, si percepisce il tifo oppure non molto? Per noi tantissimo, è anche importantissimo. Noi quando si arriva a casa vogliamo andare in campo al centro per cento, ma anche i tifosi devono essere come noi, devono essere un giocatore in più. Io fino adesso, tante partite che ho giocato a San Paolo, sempre hanno stato altissimo livello, allora non posso dire nulla. Il piccolo Carlo per Roberto? Aspetta che la domanda era anche per Giorginio, vero? Vabbè comunque sì, sono d'accordo con José e ogni partita che ci siete al nostro fianco sicuramente si sente tanto e ci dà una carica in più. Nel momento in cui magari siamo stanchi sicuramente facciamo un scatto in più anche per il compagno perché arriva questa energia da fuori campo che ci aiuta tantissimo. Grazie.